Allora, cappellino messo alla cazzo come al solito, parliamo di Drive Away Dolls, film di Ethan Coen scritto con la moglie Trisha Cook, quindi non è un film dei Coen ma è un film di Ethan Coen, un film che è presentato come una commedia thriller con due ragazze protagoniste e due ragazze lesbiche, che non stanno insieme però, sono amiche. E sono Margaret Quilley e Geraldine Vishnathan, no Vishwanathan, qualcosa del genere, insomma chi se ne fotte, poi quando diventerà ancora più famosa lo impareremo bene a dire il suo nome. Diciamo che uscendo dall'anteprima stampa ero un po' più entusiasta perché comunque il film è una commedia e effettivamente fa ridere, ci sono proprio delle battute che fanno proprio ridere, proprio ad alta voce, ti viene proprio da ridere perché sono buffe, sono con i tempi comici giusti e ci stanno. Noi sono anche un po' alla Coen, forse un po' troppo nel senso che ce ne sono un po' troppe, forse alla fine il film di thriller non ha praticamente nulla, è proprio un film comico fondamentalmente. È un film comico, è un romance più che altro, e la parte romantica è forse quella riuscita meglio, che è l'amicizia che si trasforma in amore tra queste due protagoniste. Ed è quella più carina, più dolce, più sviluppata meglio a livello di scrittura, cioè ti incuriosisce, ti intriga a seguire come si evolverà il loro rapporto. Per il resto è una serie di battute sul mondo lesbo, fondamentalmente, e in questa situazione mi sono trovato abbastanza disorientato, in quanto io, per quanto mi piacerebbe, non sono una lesbica, e non conosco benissimo questo mondo, non mondo, ma gli ambienti eventualmente, le usanze, sono ignorante in questo. E quindi mi sono trovato abbastanza sconcertato, perché non sapevo bene quanto si stesse ironizzando, o quanto fosse reale, quanto fossero stereotipi, in alcuni casi è palese che ci siano degli stereotipi, però altre cose non so quanto siano di uso comune in questi ambienti qua. Quindi non sono riuscito bene a giudicare il film da quel punto di vista, come se vedessi un film ambientato in un paese, che ne so, arabo, di cui non so nulla, le usanze, costumi, eccetera, e si fa ironia su queste usanze e costumi, non riuscirei bene a individuare cosa effettivamente è una caricatura e cosa non lo è. Nonostante ciò comunque il film fa ridere, quindi io uscendo dalla sala sono rimasto abbastanza soddisfatto dalla visione, però, diciamo, lasciandolo sedimentare, e purtroppo, purtroppo, vedendoci dentro tantissimo del cinema dei Coen Brothers, è molto difficile scindere il giudizio, perché ti sembra di vedere un film dei Coen col freno a mano tirato, o meglio, su alcune cose è molto tirato, per cui l'aspetto più cupo, più cinico, più noir, più dark del cinema dei Coen, col cinismo che c'è in tante loro commedie, thriller, ed è cattivo, ed è tagliente, qua è smussato, non taglia nulla. Persino un aspetto creepy della storia risulta quasi disneyano, risulta finto, non spaventoso, non inquietante, non schifoso, non inquietante. È molto edulcorato tutto quanto. Manca quella parte dei Coen, non vorrei fare questo confronto, perché non sono per i confronti, ma non riesco a scindere. Mi è sembrato di vedere un film di un regista a metà, perché loro sono abituato a considerarli come un intero che fanno film, quindi non mi è rimasto molto da questo film, a parte qualche battuta simpatica, a parte qualche battuta simpatica, un'ironia anche probabilmente a più strati, quindi molto, in alcuni momenti forse anche più sofisticata di quanto appare. Però insomma, per me non è una visione così imperdibile, ecco. Diciamo che sono abbastanza tiepido nella valutazione, non sono così entusiasta di questo film. Allo stesso tempo, per una visione, diciamo, di un film, un film commedia, tranquillo, diciamo, senza troppo impegno, ci sta. Soprattutto, boh, parla a un pubblico, secondo me non parla a un pubblico generalista, perché certe cose io non le capisco, cioè non le ho capite, sono molto lontano da questo film, e non è che voglio esserlo, semplicemente non le capisco. Cohen interrotto, grazie, grazie Bersa, questa è la definizione che metteremo, che metterò nel titolo di questa recensione, va bene? Ti rendo parte della redazione di questo canale, è girato bene, è girato benissimo, è montato benissimo, è un lavoro fatto benissimo, anche con lo stile, lo stile registico dei Cohen. Ci sono tante cose che nelle inquadrature, proprio, i registi li individui facilmente dalle inquadrature che amano, e le ripetono spesso, quindi se pensate a questa inquadratura qua, è un'inquadratura molto usata da loro. Questo è quanto.